Il gruppo SESA intanto rapidamente è uno dei più grandi provider di servizi e di soluzioni tecnologiche a livello italiano e questo fa sì che il VAR Group e il gruppo SESA trattino una grande molla di dati personali, di fornitori e clienti. Possiamo dire per favore qual è il fatturato del gruppo SESA? Qual è il nostro principale intervento che abbiamo fatto a seguito del GDPR? Innanzitutto abbiamo riguardato tutti i processi, perché come abbiamo detto oggi prima si parte dai processi, mappare i processi, scrivere policy e poi eventualmente adottare tutte le azioni correttive per essere compliant al 25 maggio. Ora essere fully compliant al 25 maggio per un gruppo aziendale grosso quanto SESA è una cosa praticamente impossibile, anche perché siamo in attesa di decreti attuativi, eccetera, della legge delega. Quindi ci stiamo muovendo sulla base della nostra discrezionalità di cosa riteniamo fondamentale andare a proteggere. È interessante che la maggior parte dei trattamenti che effettuiamo noi li effettuiamo essendo un provider di servizi informatici per i nostri clienti. Quindi la nostra preoccupazione è quella di tutelare i dati dei clienti e quindi in un'ottica di responsabile del trattamento a cui sono collegate determinate responsabilità in base all'articolo 82 del GDPR. Cosa facciamo? Noi ad esempio abbiamo un data center, abbiamo un data center con quindi abbiamo stabilito determinate misure di sicurezza, misure di sicurezza che possono essere sia fisiche, logiche, ma anche misure di sicurezza come un security operation center. Cioè cosa abbiamo noi all'interno e qui per andare alle misure di sicurezza di cui è l'articolo 32? Noi abbiamo un'azienda nostra, del gruppo, che monitora H24 i nostri sistemi informativi e che in maniera reattiva e proattiva protegge dalle minacce e le violazioni di dati e dati personali. Ok? Le incursioni nei server eccetera eccetera. Parallelamente cosa abbiamo? Abbiamo anche una divisione di threat and cyber intelligence che protegge la nostra azienda scandagliando il web, scandagliando il dark web, cercando le informazioni, i dati personali che ci sono stati eventualmente sottratti nei famosi leak. Ok? Queste sono ad esempio delle varie misure di sicurezza che abbiamo. Misure di sicurezza che consigliamo caldamente anche ai clienti. Ovviamente c'è una forte resistenza. La forte resistenza al cambiamento è anche da parte del cliente. Vi faccio degli esempi. Noi, il cliente ci chiede delle soluzioni IoT. Noi sviluppiamo le soluzioni IoT. Spesso e volentieri le soluzioni IoT diciamo che possono rientrare come fattori produttivi di rischi alle libertà degli interessati e ai diritti degli interessati. Non fanno nessun tipo di analisi dei rischi i nostri clienti, ma anche medie e anche grandi aziende. Nessun tipo di analisi dei rischi. Dovrebbero fare adesso un data protection impact assessment. Niente. Ci chiedono di svilupparli un sistema e-commerce. Non badano alla privacy. Anzi, ci dicono, ci scrivete voi le informative? Come? Siete voi i titolari del trattamento? Siete voi che determinate... Questo è il livello di resistenza che troviamo da parte dei clienti. Motivo per cui poi abbiamo anche una divisione di consulenza specialistica che fa consulenza privacy per i clienti. Ma la resistenza è anche interna. La resistenza è anche interna. Perché andare a toccare determinati processi, determinate procedure, in contesti dove la privacy sinceramente non viene tenuta molto di conto. No. È una rottura di scatole per la maggior parte dei dipendenti. Questo ci crea comunque dei problemi. Perché affrontare un progetto di adeguamento di un sistema organizzativo aziendale, io ho parlato di progetto, perché di progetto si tratta, occorre la collaborazione di tutti, di tutti gli stakeholder. Tutti gli stakeholder delle varie funzioni aziendali, a partire dalla funzione IT. Quindi le resistenze interne come si vincono? Non si vincono. Ovviamente facendo riferimento all'imprenditore che dà delle direttive, l'imprenditore dice da oggi dobbiamo guardare e adeguarci. Ma anche facendo formazione e sviluppando la cultura della privacy. Sviluppare la cultura della privacy è fondamentale. È fondamentale per un'azienda come la nostra che si pone sul mercato come leader nelle erogazioni di servizi informatici. Se al nostro interno non abbiamo la cultura della protezione del dato personale, del petrolio, non possiamo porci seriamente nel mercato e fatturare un miliardo e 300 milioni di euro. Quindi le attività che abbiamo fatto sostanzialmente per le 30 aziende controllate, abbiamo adottato un software di gestione privacy molto interessante che si collega al data breach e al SOC. Nel momento in cui c'è un data breach automaticamente partono una serie di comunicazioni a livello autorizzativo fino a poi a fare la comunicazione diretta al garante se si tratta di dati personali di cui noi siamo titolari o ai clienti nel caso in cui noi siamo responsabili. Stiamo valutando poi l'adozione di tutta un'altra serie di misure che ovviamente poi dovranno e rafforzeranno la protezione dei dati personali a livello aziendale. Abbiamo da poco implementato una soluzione di disaster recovery completa di tutti i nostri sistemi informativi che prima erano ridondati in maniera tale che non avvenga la perdita di dati personali se vanno giù dei server o dei nodi dei nostri data center. Quindi quello che volevo dire io è importante a livello aziendale iniziare a pensare in ottica privacy ma soprattutto sviluppare una cultura privacy.